Questo è il lobster. Come potete vedere il flacone Laila si è trasformato perché con Federico abbiamo proprio studiato questa tecnologia di sliver e questo è tutto un materiale ecocompostabile derivante dal mais, quindi completamente eco. Questo è il lobster, questo è lo slime, bellissimo, e questo è il moon safari. Il moon safari ragazzi si illumina al buio, quindi dentro è completamente trasparente. E voi lo mettete su ogni tipo di gel polish e lui si illuminerà al buio. Non colora! Ciao! 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 Io! Sono Fedez e consiglio il mio smalto. Sono Fedez e consiglio il mio smalto.